benvenuti agli amici di tv ciscam per la quarta puntata di culture africane nella recente puntata di culture africane dedicata alla storia del sud africa abbiamo accennato al recentissimo film uscito un mese fa la sede di silverton un film ispirato ad un episodio reale della lotta anti apartheid in particolare il film si concentra su un giorno fondamentale il 25 gennaio del 1980 quando wilfrid mandela hamphries maccubo e stephen mafoco si rifugiano all'interno di una filiale bancaria situata proprio al centro di silverton città nei soborghi di pretoria con l'obiettivo di rendere la nazione ingovernabile e avviare la campagna di liberazione per nelson mandela poi scarcerato l'11 febbraio del 1990 i ribelli scappati da un attacco terroristico fallito in un deposito di petrolio e braccati dalle forze di polizia presero in ostaggio clienti e impiegati in una in una banca in una escalation di violenza che culminò con diversi morti e alcuni feriti il film è del regista sudafricano mandla dubbe operatore di già operatore di riprese in per di pellicole come men in black il secondo e the italian job molto famoso e fa parte di una trilogia del regista che comprende solo moncalusci ma anche la sede di si la sede di silverton appunto che nel film di cui parliamo e che si concluderà prossimamente con il processo rivonia il procedimento giuridico a carico di mandela che lo condusse al carcere a vita appena uscirà ve ne daremo notizia la sede di silverton è un thriller drammatico che rosso che ricostruisce la storia vera di un gruppo di ribelli sudafricani affilato affiliati al movimento un conto si sui la pronuncia sarà orrenda naturalmente abbreviato in mk un'ala militare dell'africa national congress sorto quando le azioni pacifiche contro l'apartheid sudafricana si dimostrarono non più sufficienti a liberare lo stato dal regime segrazionista il film ha avuto accoglienze contrastanti dalla critica cinematografica il magazine online di nuovo progetto cinema scrive che la serie di silverton leggo dal testo la serie di silverton poteva avere tutte le carte in regola per essere un grande film azione sentimento storia e morale ben si legano sullo schermo e sono sempre una combinazione vincente che emoziona e coinvolge e tuttavia il nuovo prodotto netflix non sfonda certo non si è mai dato l'area da docufilm ma l'eccessivo romanzare delle vicende scade in qualcosa di già visto e rivisto vari elementi a partire dalla a partire dagli esperienti narrativi più inflazionati passando per un'atmosfera eccessivamente pulita e curata nei dettagli male si accostano ad un atto di ribellione sovversivo a tutta la debolezza della trama cerca a tratti la debolezza della trama cerca di essere colmata da classiche scene crea tensione che però non hanno l'effetto desiderato proprio a causa della banalità delle scelte questa è una critica piuttosto dura al film credo che però sia più equilibrato il giudizio di valentina savalle in cinema e serie tv che scrive nella nella sedia di silverton sono presenti alcuni colpi di scena che chiariscono la trama e gli avvenimenti che i protagonisti stanno vivendo ma che al contempo non risultano di vitale importanza nel sorreggere la pellicola in quanto questa si sorregge in autonomia grazie alle forti tematiche sociali e morali presenti che sono questi il fulcro di tutto il film come ad esempio enfatizzare le discriminazioni razziali legate a quel periodo la lotta per la giustizia e la libertà individuale di un popolo che spesso veniva giudicato solo per l'aspetto estetico per il colore della pelle altro tema il costo della libertà e il prezzo da pagarla e la tematica del movimento di liberazione di un personaggio mandela che ha cambiato le sorti di molte popolazioni insomma se tecnicamente è presente qualche pecca di messa in scena scrive la critica in scena della messa in scena e scrittura della politica la sede di silverton brilla per lo più per gli argomenti affrontati volte a sensibilizzare lo spettatore con quel tocco politico sociale che in questo genere di film non è semplice mettere in scena ci rivedremo alla prossima puntata di culture africane grazie a tutti